Io credo che si risolverà con una ragionevole adesione ad una proposta che l'Unione Europea ha fatto ai Paesi membri, anche da parte dell'Italia, in modo tale che non vadano sprecate risorse in un momento in cui l'Italia certamente può far tutto tranne che sprecare risorse economiche, vista la carenza smisurata. Il dibattito in Italia sul MES è un dibattito stucchevole, costruito su false informazioni e sulla pretesa di raccolta del consenso da parte di alcune forze politiche di sinistra e di destra che sembrano rifiutare il confronto con la realtà, quella vera, quella fatta di risorse vere, non di risorse sognate. E poi tanta disinformazione, ripeto, perché dichiarare che gli italiani non devono far pesare sulle generazioni future le colpe, le proprie inefficienze e dire quindi che non si fa il MES ma si fa debito pubblico, si fanno titoli di debito pubblico italiano, significa non aver capito nulla. Perché significa non sapere che un bond italiano, un titolo di debito pubblico italiano oggi costa l'1,8% e mentre il MES costa lo 0,08% o addirittura può essere emesso a titoli ad interessi negativi se viene rimborsato in sette anni. Quindi chi tra i due, chi sceglie il MES e chi sceglie il titolo di debito pubblico, ha gravato di debiti le generazioni future. Bisogna essere matti per non capire che in questo momento il problema dell'Italia non è alambicare o capricciare su qual è la fonte delle risorse che dobbiamo utilizzare. Tutte le risorse servono, il problema dell'Italia è stabilire come vogliamo spenderli questi soldi. E quindi invece di discutere su come andare a reperire le risorse, una volta che l'Europa mette a disposizione risorse vere, immediate e a tassi di interesse assolutamente competitivi, introvabili sui mercati internazionali, il nostro compito è fare un bel dibattito in Italia per dire quanti ospedali rifare, come utilizzare queste risorse per riformare la medicina di territorio, come uscire dalla retorica del dibattito tra destra e sinistra su chi ha affrontato meglio il Covid e affrontare le conseguenze sanitarie ed economiche di una tragedia così grave. Oggi la disinformazione e certi capricci stanno a zero.